Ciao a tutti, buon tutto, buon ferragosto a tutti Allora, volevo dire una cosa Secondo me Facebook, invece di mettere le persone incompetenti in materia di sicurezza che non guardano bene tutti i post che gli vengono segnalati e soprattutto a me, le persone che mi segnalano sempre i miei post poi Facebook, non guardando tutto bene, me li rimuove ecco, è successo con due dei miei gruppi di guadagno e ieri mettendo proprio il video di buon ferragosto me l'hanno segnalato come contenuto sensibile non me l'hanno rimosso quello, però me lo stanno sempre a segnalare come contenuto sensibile allora stamattina ho richiesto tre volte un ricontrollo però mettete le persone su Facebook assumete le persone competenti in sicurezza che guardano scrupolosamente tutto e poi valutano se è il caso di rimuoverlo oppure no perché dovrebbero rimuovere i contenuti offensivi delle persone cattive che offendono o quelli che ammazzano ecco, no? delle altre persone è Grazie a tutti.